Qui inizia la prima puntata di questa rivista curata da Alessandro Magagnini, già ne avevamo parlato la volta scorsa e ho scelto questa musica bellissima che è colonna sonora del film The Tree of Life, cioè l'albero della vita e insomma tra alberi, piante eccetera, ora inizia la rubrica Il Magico Mondo delle Piante Prego Alessandro, ciao, è giusto quello che ho detto? Sì, giustissimissimo Gasfiterina, oggi diamo un po' inizio a questo Magico Mondo delle Piante Magico Mondo delle Piante, l'abbiamo chiamato l'altra volta così, l'hai detto tu spontaneamente e io ne ho approfittato, ho detto beh può essere questo il titolo della rubrica Allora, io volevo dire che Alessandro Magagnini tratterà un argomento che oggi è una cosa di una tenerezza ragazzi Sì, veramente incredibile. Alla fine dell'argomento, alla fine della sua chiacchierata, diciamo della nostra chiacchierata potete telefonare. Il numero è 0717574429 qui a Radio R e cercate di attenervi un po' all'argomento della giornata che è Alessandro? Oggi parleremo dei Marimo Marimo ragazzi, Marimo Che è proprio un argomento forse del tutto sconosciuto perché sono delle piante particolarissime, quasi dei Pokémon non potremmo definirli I Pokémon, sì veramente sono belli Sono di moda quest'estate E praticamente sono delle alghe giapponesi che veramente non sono solo in Giappone ma sono presenti anche in Islanda o in Austria, infatti sono state scoperte nel 1820 in Austria In Austria addirittura? Sì, in un lago Ma sono molto presenti invece famose nel lago Akan in Giappone Infatti l'hanno chiamata Marimo proprio perché deriva da Mari che significa sfera, biglia e mo che significa che sono delle piante che vivono in acqua Ah, mo sono delle alghe Alge, sì sono delle alghe Infatti sono delle sfere questi Marimo Sì esatto, descrivilo perché è bellissimo È stupendo, sono dei batuffoli, sembrano verdi, galleggianti Sì, batuffoli di muschio sembrano Sì, però non è muschio ma è un'alga Però a me dava la sensazione di una pallina di muschio Vive nell'acqua E lui l'ha portata qui a Radio R, amici, in un barattolo di vetro Dove si vede questa pallina galleggiare E attenzione, attenzione Che diametro avrà questa? Ah ma lei ha un diametro di 4-5 centimetri 4-5 centimetri, quanti anni ha? Le 40 40 anni Sono lentissime, fanno 5 mm l'anno Infatti sono considerate delle specie protette in Giappone Vivono proprio in questo lago Akan Chiamato lago anche delle biglie, delle sfere Perché sul fondo del lago ci sono tutte queste sfere di queste piante Che poi i foto sintetizzano perché sono delle alghe verdi E hanno la bellezza Sì, infatti è un bellissimo verde Sberaldo Sì, un verde sberaldo Infatti vengono utilizzate proprio per la fitodepurazione anche dell'acqua Perché assorbono molti nitrati e nitriti presenti nell'acqua E producono ossigeno Infatti queste alghe sono delle alghe in movimento Qua si vive considerate, ecco perché sembra quasi un Pokémon Perché creando ossigeno, con la fosa di sintesi, producono ossigeno E quindi le porta ad andare verso l'alto E produrre tutte micro bollicine nell'acqua Sono fenomenali Un fenomeno della natura Vivendo in luoghi anche bui Infatti non amano la luce diretta del sole Vivono anche sui fondali, ecco perché stanno sui fondali nel lago E risalgono, una volta che producono ossigeno Risalgono in superficie per beccare un pochino la luce E fanno delle danze salendo Perché ruotano per cercare di captare la luce in tutte le sue forme Ed è favoloso Un po' di musica Sì, sono delle piante danzanti Perché si muovono e ruotano E quindi beccano la luce da tutte le parti E così che riescono a fotosintetizzare Si muovono con le moto ondose Con le onde E quindi si creano proprio queste sfere Dopodiché si trovano Ah ecco perché Sì, sono delle sfere Perché così riescono a Girandosi a beccare la luce Uniforme, in maniera uniforme E non hanno bisogno di niente Perché stanno semplicemente in acqua E possono stare anche direttamente Le ho portate in un barattolo Ecco, in un barattolo chiuso Che poi in negozio Io ne ho viste di diverse età Sì, perché sono molto lente Quindi le abbiamo Di piccoline Da 10 anni Piccoline che sono Sembrano delle gocce verdi Bellissime Dentro questo mare Ecco, questo acquario Di acquario Fino ad arrivare a sfere gigantesche Anche di 200 anni d'età Perché sono piante lentissime Quindi che vivono Sono molto longevi Più di 200 anni Che raggiungono dimensioni anche di un metro Ma ci sono tante in Giappone Sono famosissime Hanno creato anche dei cartoni animati Che sono questi marimbo E delle leggende Infatti c'è una leggenda famosissima Che l'ha dedicata proprio al lago Akan Che narra la storia Dei due innamorati Che sulle rive di questo lago Hanno cercato di Si incontravano segretamente La sera Perché le famiglie non rivali Un po' come Romeo e Giulietta E dopo di che là Le famiglie l'hanno scoperti Una di queste serie E loro per far duare in eterno Il loro amore Si sono buttati E si sono negati In questo lago E così hanno dato vita A questi marimbo Che da lì Hanno simboleggiato per sempre La storia proprio Dell'amore eterno Vengono fatti donati In caso di Nei matrimoni Stupendo Come dono anche per le nozze Ah ecco Come dono di nozze Si di nozze O per le nuove pratture Come simbolo proprio Di longevità Anche dell'attività Stupendo Stupendo Senti Che manutenzione hanno Praticamente pari a zero Ogni tanto va cambiata l'acqua Una volta ogni dieci giorni Bisogno di niente Poverine No Sono piante Aglie d'acqua dolce E sono bellissime Perché poi entrano anche In simbiosi Con dei pesciolini famosissimi Che sono le gambuse Le gambuse 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 Che sono dei pesci piccolissimi Che vivono anche Negli abberatoi dei cavalli Hanno una particolarità Di nutrirsi Delle larve e zanzare E sono dei pesci spazzino Quindi ripuliscono Vivono in simbiosi con lei Perché ripuliscono l'alga Da queste Magari delle cellule morte Che si liberano In più E la mantiene sempre Pulita Dalle impurità E dalle anche Dalle larve e zanzare Che si insinuano all'interno Quindi così Può tenerla anche In un vaso aperto O in un polla O in un vaso San Caccona Cilindro Sono bellissime Che poi C'è la particolarità Che il barattolo È chiuso Quindi non è aperto No Se mettiamo il pesciolino In questo caso C'è il pesciolino Sì Però se Loro vivono tranquillamente Dentro questo barattolo Con un tappo di alluminio Bellissimo Anche esteticamente Devo dire Però chiuso Quindi è veramente Particolare Ma veramente Ha bisogno di niente Questa Senti Però la tua Che hai portato qui Ha una cosa Molto particolare Perché il marimo Si propaga Praticamente Per divisione E quindi Le alghe Poi dopo Le varie colluttazioni Staccano Delle piccole porzioni E figliano Praticamente Fanno dei piccolini Quella che abbiamo portato Ha il piccolino Questa lo è Adesso Noi abbiamo fatto Delle foto Poi la posterò Su Facebook Anche su Youtube Con tutta la registrazione Della puntata E quindi Chi vuole Può vederla Assolutamente Sul sito di Radio R www.radior.net E la cosa bella È che sono state Utilizzate anche A scopo didattico Perché in Islanda Le usano proprio Per spiegare ai bambini Il modo di rotazione Della terra Perché queste sfere Sembrano proprio Sono paragonate alla terra In quanto galleggiano nell'acqua Un po' come la terra Che legge nello spazio E praticamente E ruotano E quindi per spiegare Il senso anche di rotazione L'asse terrestre Quindi gli insegnanti Usano anche le piante In Islanda In Islanda Per così Come scopo didattico Praticamente Ma effettivamente Non hanno bisogno Di tanta manutenzione Quindi anche in un'aula Così può rimanere Per diversi giorni Anche in un luogo Non molto luminoso Quindi anche in casa In ufficio E certo Poi dicevi appunto Che vivono bene Non al buio Però insomma All'ombra Ecco In una situazione Di semiluce Di semiluce La luce filtrata Quindi veramente Anche a casa mia Che c'è poca luce Può stare tranquillamente Potrebbe stare benissimo Ecco Sì Infatti Bellissimo E poi avranno Uno spazio infinito Per la fitodepurazione Che questo Che sarebbe La fitodepurazione Consiste nell'utilizzo Di piante Per la depurazione Dell'acqua E quindi dove Chi appunto Vorrebbe fare Questa Questo lavoro Di depurazione Dove potrebbero Metterle Potrebbe metterle Queste di Marimo Vengono usate Negli acquari Negli acquari Nei piccoli bacini In fitodepurazione Oppure E quindi Sono le uniche alghe Utilizzabili Negli acquari Perché di solito Le alghe Negli acquari Intasano i filtri Vanno eliminati Mentre i marimo Visto che sono eleganti Poi si chiudono Quasi a riccio Rimangono Rimangono così Nel fondo Poi ogni tanto Risalgono Insieme agli altri Pesciolini tropicali Praticamente Vediamo queste palline Così Carinissime Tra l'altro Simpatiche Senti però Tu Quando sono venuti In negozio A vederlo Tu l'hai presa in mano Infatti No diciamolo E si possono Tipo delle spugne Quindi si possono Schiacciare Esatto Lei è anche schiacciata Quindi non temono Nemmeno il niente No no Per carità Basta Non le sparpaglia No assolutamente Però Si possono prendere Con le mani Non serve il retino Eccetera Come per esempio Per gli altri Per gli altri pesci E me l'hai messa In mano Si possono accarezzare Sono molto coccolose Si sono Tanti stress Sì 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 E tu appunto Le hai strizzate un pochettino No E ha lasciato acqua E poi l'hai rimessa Nel suo posto Per questo si possono trasportare Anche per lunghi periodi Quindi magari Messe in un sacchettino Di plastica Anche senza acqua Riescono a essere fatto Spazio Quindi su uno trasloco Si sposta una casa All'altra E poi potreste Dietro il marimo Di una forza Incredibile Sì Evoluta Sì Poi da migliaia di anni Quindi Esatto Insomma Non dico preistorica Però Quasi 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 Perché sono vissute Propriate conservate Nei fondali Senti tu quando è che l'hai conosciuta Questa pianta Ma da pochissimo Da pochissimo Casualmente Proprio quest'estate Perché C'è stato uno scambio Intraculturale tra me E un'altra ragazza Invece che era appassionatissimo Di marimo E la E io gli ho fatto conoscere Le green cake nostre E lei invece ha fatto conoscere Il marimo a me Uno scambio Sì Di novità Poi sono appassionatissimo Di fitodeburazione Di piante acquatiche Usate per le biopiscine Soprattutto In un'azienda Infatti studiamo molto L'utilizzo delle piante Per la depurazione dell'acqua E come le piante Assorbono in idrati e fosfati Presenti nell'acqua Certo Per andare sempre In contro All'utilizzo Sempre di meno Di sostanze tossiche Magari Quasi il cloro Per la depurazione Ma invece utilizzare Prodotti proprio naturali Ah vedi Si potrebbe No già si usa Già si usa Al nord Arriveranno anche da noi Si 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 stanno studiando Il problema che da noi Perché al nord L'acqua è più fredda E quindi si gestiscono Molto meglio Anche la flora microbica Contenuta nell'acqua E la si riesce a depurare Più facilmente Da noi Essendo più caldo Dobbiamo giocare Semplicemente Su altre tipologie Di specie Di piante Ah ho capito Che magari al nord Si utilizzano alcune tipologie Da noi altre tipologie Ah bella Questa cosa Che anche le piscine Possono essere pulite In modo naturale Si diventano proprio Dei biolaghi Ah che bello Ci saranno un po' Di piacolini in mezzo Quante cose Che ci dice Alessandro Senti Mettiamo un po' Di pubblicità E poi ritorniamo Perfetto Adesso potete Dare sfogo Alle vostre domande Il telefono è aperto Chi vuole chiamare Può farlo Noi intanto Continuiamo a parlare Del nostro amico Ehm Nostro amico O amica Da pianta Non si capisce bene Dicevamo intanto Che andava la pubblicità Che quando soffre Si capisce No? Si se lo si vede Perché si spegne il colore Rimane meno vivo Meno intenso Dal verde brillante Assume delle colorazioni Tendenti al marrone Brunastro Quindi tende a Quasi seccarsi Anche se nell'acqua Praticamente È un po' Anomalo Sono degli insetti Che si insinuano All'interno del marimo Perché ci fanno Proprio queste uova Ecco perché metto Sempre in simbiosi Il marimo Con altri pesci Tipo le gambuse Che lo aiutano E infatti Sì infatti Nel tuo negozio C'è questa vasca Dove Dove tieni questi Marimo All'interno di questa vasca Con questi pesciolini Che insieme Capito Giocano In questo Acquario Devo dire Che Qualcosa di Nuovo Per me Che io di fiori Non me ne intendo Minimamente Però Ripetevo L'altra volta E poi te lo dico Continuamente Che il tuo Lo dico continuamente Che il tuo negozio È un po' anomalo Perché non tratta fiori Come noi Abitualmente Vediamo i negozi Di fiori Con appunto Ciclamini Orchidee Di tutto Le orchidee però Le hai? Sì La cosa infatti Particolare Che poi volevo Accennare al inizio È che questa serie Di puntate Che faremo insieme Saranno incentrate Proprio sui Le curiosità E misteri Che le piante Ci offrono Ci mettono a disposizione Ecco perché Sono partito Proprio con i marimo Perché E ci fanno capire Come la natura A volte C'ha All'interno Un sacco di Di stimoli Anche evolutivi Ha lottato Nel corso degli anni Per evolversi E generare Sempre di più Adattamenti Anche all'ambiente In cui si trovava E quindi Andremo a conoscere Anche nel campo Delle orchidee Tutte quelle Capacità Adattamento Che loro Sono Anche questi Sono fiori Cosa sono Parassi No 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 Poi vedremo insieme Il magico mondo Delle orchidee Che è Favoloso L'orchidee È un genere Di solito Attenente A maschine Ah vedi Ma allora È il vischio Che è un po' Parassita Diciamo È un parassita Io pensavo Anche alle orchidee Ma come dicono Sono ignorante In materia Quindi è meglio Che sto zitta Non parlo Faccio parlare Però ecco Questo marimo Veramente È qualcosa Di favoloso Perché potete Davvero Tenerlo In un barattolino Come anche Che non c'entro tavola Insieme a queste gambuse Che non hanno bisogno Tantissima acqua Sono pesioni piccolissime Quindi vivono Direttura negli Abbreratori dei cavalli Perché hanno Pochissimo spazio Stupendi Però probabilmente Più grande lo spazio E più grande Diventa anche il marimo E ovviamente Anche i prezzi cambiano Adesso non li diciamo Perché chiunque Voglia saperli Entra nel tuo negozio Però diciamo Che è logico Più è anziano La pianta più è grande E più insomma È un costo Ci possono propagare Di predivisione Ah ecco Poi quel piccolino lì Lo puoi togliere Eccolo È possibile Essere minuscolo Non manco 500 mm proprio È piccolino Quindi dopo poco Potremmo dividerlo Sì E come funziona Cioè la riproduzione Come funziona È per divisione È per divisione Certo Non ho l'uso di semi O magari di spore Ma va proprio Fa tutto da solo Fa tutto da solo È una pianta autonoma È veramente Eccezionale Davvero 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 E quindi qua in Italia Non è che siete in molti Insomma Perché io non l'ho mai vista Anche In quei negozi Molto specializzati Molto scena È utilizzato Nei negozi d'acquari Ah ecco D'acquari Capito Non coriofilia molto Però nei negozi Di fiori normali No È poco conosciuto Ho capito Per quello che C'è avuto un sacco Di successo Senti Non ci sono telefonate Io metto ancora Un po' di pubblicità Che il prima Ne ho messa poca E poi ritorniamo Qua in studio Niente di grave Max Pezzali Ma bellissimo Questo pezzo Dedicato al figlio Tra l'altro Senti A proposito di figlio Con Marimo Che qui Ha partorito Un piccolo Marimino Se posso dire Senti Ma Ascolta Ma queste piante Che sono autonome Che sono forti Che vivono Anche in un barattolo Di vetro Con dentro l'acqua Ma si cibano Hanno un concime Particolare Con cui crescere Che Che succede Cioè I Marimo Si nutrono Praticamente di luce Solo la luce Basta Quindi Se li vedete Poco vitali Poco spenti Per carità Non dati Un concime Perché se no Sono organismi Molto semplici Vedi la natura Ci sono proprio adattati Anche a queste forme Sferiche Per cercare Di muoversi Anche con il modo tondoso E di pulirsi Anche dall'impurità Così facendo Autonomamente L'unica cosa Che potete dargli Ecco E magari Se vedete Che sta sempre sul fondo Che non si solleva mai Un goccino Siccome il baratto È chiuso E quindi Non è che entra in contatto Anche con le sostanze Presenti in atmosfera Magari anche con la Nieride carbonica Che la stimola La pianta La produzione di ossigeno Metteteci un pochino Di acqua gasata E vedete che la pianta Comincia a riattivarsi La nitrite carbonica Le bollicine Comincia a riattivarla Comincia a rimuoverse Riattiva L'attività Diciamo Di questa Bellissima pianta Molto design Devo dire Abbiamo detto Che si chiama Marimo Ma il nome latino Invece è L'Agegrofila L'Innei Da Linneo Io non lo ripeto Non lo ripeto Perché tanto Sono sicura Che lo sbaglio Se vuoi ripeterlo Tu per i nostri ascoltatori L'Agegrofila L'Innei Ah stupendo Stupendo È un po' lungo Infatti non lo ripeto Ti dicevo Che comunque È una pianta Molto design Perché è minimale Proprio Nella sua sfericità In questo colore Si posso creare Questa forma sferrica Perché poi può essere Un pochino più schiacciata Meno schiacciata Ma tendenzialmente sferrica Si si È una piccola pallina Monocromatica Solo verde Un verde brillante Un verde A seconda della luce Poi assume anche Delle colorazioni Più o meno Ecco infatti Anche questa Giusta osservazione A seconda della luce Si schiarisce forse Il verde Diventa Più lucente Insomma Una scala cronomatica Da scegliere Diciamo Senti io vorrei In questi cinque minuti Che ci rimangono Vorrei ripetere Alcune cose Per esempio Quelle più romantiche Diciamo Questa è una pianta augurale Mi dicevi all'inizio Per chi si fosse messo In ascolto Solo ora È simbolo Proprio dell'amore eterno Della amicizia Ed è un segno buon aspice Infatti donarla Anche sia per il matrimonio Sia per le nuove pratture Anche dei negozi Quindi tenerla Ecco Tenerla in casa Insomma diciamo È un piccolo talismano Possiamo dire No Perché poi Se avete degli animali in casa Non è che la danneggiano Ma Quindi cacchiala peggio I gatti possono entrarci dentro E giocarci Ma A lei non succede Assolutamente nulla Assolutamente Beh Certo Se decidete Di metterla in una boccia Con dei pesciolini Non mettetela con i pesci rossi Perché se no Se la mangiano I pesci rossi Sono diottissimi Ecco Attenzione Ecco il pesce rosso Perché è un attimo Davvero Prendi il marimo Dice Tanto io ho già La mia boccia Con il pesce rosso In tre secondi Distrugge Distrugge 40 anni di vita E poi questa C'è anche il marimino Lì piccolino Che è una cosa Senti Tu questo qui Lo puoi staccare Sì Questo possiamo Staccarlo proprio dalla pianta Quando vuoi Tu lo decidi tu Ah sì Quando vedi che raggiunge Almeno la dimensione Di un centimetro Quasi Dopo almeno un anno Due La puoi togliere Sì perché La pianta comunque Dà anche vitalità A questa piccolina Oppure sono sempre staccate Sono indipendenti Ma è una cosa Meravigliosa Meravigliosa Veramente Una pianta che abbiamo potuto Abbiamo detto che è in movimento Poi quindi il vento che si muove su e giù Sì E nella quale ruota su se stessa Ecco perché in Islanda la utilizzano Per spiegare ai bambini Il senso di rotazione della terra Quindi È una pianta È un essere vivente completo Completamente Autonomo E non ha bisogno di moltissime cure Ed è anche un talismano Per la nostra casa E per la nostra vita Quindi è un piacere anche per la vista Perché vederla è davvero Guardate amici È veramente straordinaria E ci impara poi a vedere la bellezza Anche nelle piccole cose Infatti nelle cose più semplici Infatti quando dico Una pianta minimalista È perché è monocromatica Una sfera Cioè la perfezione No? Anche già Il fatto di essere così Sferica È il senso proprio Della perfezione Della natura E vive con niente Praticamente perché mi dici Che gli basta solamente La luce e l'acqua Quindi davvero È straordinario In più è utile per la pulizia Degli acquari La depurazione Senti Io direi che per oggi Terminiamo qua La nostra prima puntata Che è iniziata col filone orientale Orientale E continueremo la prossima volta Con Ma entreremo nel magico mondo delle orchidee Magico mondo delle orchidee Un fiore stupendo I pifi Le orchidee più fitte Quindi I pifi Più possibili orientali Orientali Ecco Io per me è arabo Quello che stai dicendo Però so che è uno dei fiori Più belli del mondo Cioè le orchidee Il più diffuso al mondo Il più diffuso Sembra la rosa Se la battono tutte e due Ah ecco E anche col maggior numero di specie È Perché ce ne sono tantissime Tantissime Ne conosciamo solo una Ma Poche ne conosciamo Ma Ne sono un'infinità Se ne scopono un'infinità Ah vedi Bellissimo E quindi Ci diamo appuntamento Alessandro Al prossimo lunedì Con il magico mondo delle piante Con le orchidee Che se non dovesse bastare La puntata della prossima settimana Lo facciamo Appunto Appuntate Cioè le orchidee La prima parte La seconda parte Esatto Senti Io ti ringrazio tantissimo Di essere stato qui Con noi E ci diamo appuntamento Al prossimo lunedì Grazie Alessandro Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi